MADRE Spericolati, non ci fermavamo mai, nemmeno di fronte alla stanchezza. Il nostro motto era, avanti e senza mai voltarsi e vedere il già fatto. LABIRINTO PSICOTICO Nel mio ribelle di stacco dalla famiglia, ho contemplato, terrorizzato, faccia a faccia, la morte assassina che si divertiva con me. Sono così tornato, per forza, sui miei passi, verso la luce, serena e tranquilla, di casa mia. LABIRINTO PSICOTICO